Ilaria Angelelli, adesso arriva questo bello scontro contro Erzano domenica e avete ottenuto l'accesso ai play-off per ora dopo aver battuto i serni Sì, abbiamo fatto due punti importantissimi e ci aspetta un'altra gara altrettanto importante in casa nostra contro un avversario che si è rivelato in un giorno di ritorno molto fastidioso quindi faremo il nostro, siamo molto concentrate per questa settimana e vi aspettiamo numerosi al palazzetto Grazie